la sezione di Tivoli, arriva adesso, inizia appunto l'ottavo di Coppa Italia tra Fiorentina e Parma si gioca per Enzola, cerca un'idea, Enzola prova a liberarsi anche lui in quattro poi l'appoggio per Mandragora, Sottil, tutto in aria con il destro, si sposta Sottil, Barak prova a liberarsi la marcatura, va col Mancino, dentro! e si salva il Parma con questa azione per Della Fiorentina Mancino apre per Benedisciac, si propone in avanti il numero 7 del Parma e poi va a calciare Ciprienne e Christensen ancora, bravissimo a chiudere sulle soluzioni del Parma ma ha ravvicinato poi il Mancino, ancora di Bonni e trova il vantaggio il Parma Mihaela riconquista ancora la sfera per il Parma, si butta in avanti il numero 28 che gioca dentro per Bonni e il Parma trova il 2-0 al ventitresimo, ancora in gol la squadra di Pecchia ancora un contropiede nato in maniera un po' improvvisa e con la possibilità di approfittare diciamo così di un appoggio corto per Mina e invece con la testa giusta diciamo il Parma va a strappare quel pallone a metterlo a disposizione di Bonni e arriva il gol del momentaneo 2-0 Sottili Crostezo, Zola lo stop, si gira molto bene Zola Bellissimo gol di Ebalain Zola che riapre la partita all'ottantatresimo fa tutto da sé, si mette in proprio, calcia e trova la rete E dai che non abbiamo niente da perdere, dai Buttiamoci su otto minuti e quello che viene viene, dai Bellissimo, bellissimo gol, bravo Zola Siamo che al VAR ci sono Maggioni e Di Vuolo È proprio rigore, cioè è rigore, è rigore netto Lo dice anche al VAR Sottili contro Corvi, minuto 89 al Franchi Parma in vantaggio 2-1, parte Sottili E c'è il gol, e c'è il gol della Fiorentina Cammin caso Sottili, si ritrova sul 2-2 la squadra viola all'ottantanovesimo una rete pesantissima per questo ottavo di finale di Coppa Italia Corvi tra i pali, Piraghi per calciare Parte Piraghi, con il mancino 1-0, Fioretti Contro Christensen Il fischio di uno di due Parte Quame Gol della Frentina Boll deriva Parte Milenkovic Pesantissimo questo rigore di B願ina Traversa e gol Christensen apri le aree Apri le aree Camman Calcia fuori Calcia fuori Camman Del Tran Ah, su piedi il rigore decisivo. Parte Lucas! Andiamo ai quarti! E' affrontantissimo, andiamo ai quarti!